Ci siamo imbattuti nella scena di un delitto. Ecco com'è andata. Il dinosauro attacca Sid. Sid risponde a colpi di broccolo, riducendo il dinosauro... a un vegetale. Ma sei matto? Sid non è violento. E poi è un incapace. Sì, e dov'è il dinosauro? Va bene, obiezione accolta. Teoria alternativa. Sid mangia il broccolo. Il dinosauro mangia Sid e poi calpesta il broccolo, riducendo il broccolo... a un vegetale. Buck, di preciso, quand'è che sei impazzito? Tre mesi fa. Una mattina mi sono svegliato e sposato a una banana. Una banana orrenda. Però l'amavo...